Siamo al settimo anno, siamo alle fasi finali dell'organizzazione, ci aspettiamo le ultime iscrizioni e poi siamo pronti a far partire tutti e a superare mille ostacoli. Si tratta di una cosiddetta obstacle course race, quindi una corsa con ostacoli, si corre e si trova sul percorso una serie di ostacoli, muri, equilibrio, trasporti, ostacoli in sospensione e soprattutto in questo caso a Fighine e Valdarno tanto tanto fango che è la caratteristica infatti è Inferno Mud Edition. Le novità sono rappresentate da alcuni ostacoli nuovi, sempre ispirati dai nomi danteschi, quindi Torre Garisenda, Lorde Pozze, Caina, Malebolge e compagnia per il divertimento di tutti. Quali sono, se si può dire, il percorso e le strade, le zone che verranno battute? Ovviamente lo spettacolo principale è offerto dal Chianti Fiorentino che sono paesaggi apprezzati da tutti, sono percorsi da 12, 6 e 3 chilometri sulle colline di Fighine e in Cisa Valdarno e quindi lo spettacolo è già garantito di per sé.